è fatta 50 milioni di follower comincia la festa ci vediamo tutti lì scusa ragnetto tu non sei invitato è solo per gli iscritti ma sappi che ti adoro scrubola è una narcisista non si perderebbe mai la sua festa devo solo scoprire dove l'ha organizzata forse qualcuno dei suoi fan ha postato un indizio se solo conoscessi qualcuno disposto a leggersi decine di post sui social pronto ehi ciao peter come va la vita miles hai sentito cosa ho detto per caso hai detto pronto beh chiami con un tempismo stranamente perfetto comunque ho una missione per te cioè una spider missione oh cavolo si ci sto devi spulciare i social e scoprire dove si terrà la festa di scruble per i 50 milioni di follower ok certo ti chiamo appena trovo qualcosa mentre aspetto miles potrei andare di spider pattuglia miles cosa hai scoperto guarda qui sei un grande miles grazie mille se vuoi ti raggiungo lì potrebbe servirti una mano no ma arriverà anche il tuo momento tieniti pronto vedo l'ora beh letteralmente sai è difficile aspettare lo so ma il se lo so a dopo ok festa sul tetto vicino a george brum l'aspetto più triste di scruble è che in un certo senso è vittima dei suoi stessi fan in genere i criminali hanno un obiettivo ma per scruble è diverso lei è solo dipendente dai social finché i suoi fan continueranno a sostenerla si inventerà spettacoli sempre più folli e pericolosi per questo devo fermarla stanotte ok scruble deve essere qui in giro a meno che non sia una trappola ma dubito voglia perdersi questa festa ciao a tutti vi state divertendo vero e ricordate di taggarmi nei selfie scruble non ti muovere gli altri ti guardano è vero ma questo non ti rende una persona migliore come sei noioso io voglio solo divertire il mio pubblico ok chi vuole vedere un fotobomb oh io fermati guardatelo guarda quanti utenti collegati non possiamo fermarsi proprio oh guarda fotobomb ti conviene fare in fretta e ora colpo di scena quando passerà questa moda dei rumi tieni prendi un drone in meno guarda fotobomb Oh, oh, non perderti l'avato! Me... felice! Questa era l'ultimo. Finalmente. Ora posso chiudere i cotti. Sei riuscito a prendermi soltanto perché l'ho voluto io! Guarda quanti follower in più! Sì! Ragazzi, sapete chi sono, vero? Ma certo. Posso fare... Una ride mentre andiamo? Smetterò di seguirti.